Tutto secondo pronostico. Alla vigilia della dodicesima giornata di Serie C, solo il Monopoli tra le formazioni pugliesi vantava la possibilità di fare sua la gara contro la Sicula Leonzio. Pronostico rispettato anche se con un pizzico di fatica da parte dei Biancoverdi, costretti ad inseguire dopo il vantaggio firmato da Gomez e comunque tenuti sulla corda anche dopo il pareggio di Mendicino su calcio di rigore. Il gol di Montinaro regala ai Biancoverdi la seconda vittoria di fila e consente di consolidare anche il piazzamento playoff in classifica. Giocava contro pronostico la Virtus Francavilla a Trapani, ma la sconfitta dei Messapici va ascritta non solo alla qualità della formazione siciliana, perché i Virtussini ci hanno messo dell'oro, dopo il vantaggio Lampo firmato da Partipilo, in due dei tre gol trapanesi. Clamoroso è il pasticcio difensivo dal quale è nata l'azione del pareggio firmato dall'ex Anzola e anche il terzo gol siglato da Evaco è frutto di una disattenzione della linea retrata del Francavilla. Nel mezzo c'è stato il colpo di testa vincente di Tulli e qualche parata di Tarolli a cisilare la vittoria dei padroni di casa ed evitare un passivo maggiore ai Biancocelesti. Non era favorito dal pronostico, ma avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più il Biceglia-Silacusa. Lo scontro diretto in chiave salvezza non solo preme i siciliani con il gol di Catania, ma allunga il momento opaco della squadra di Ginestra, primi segnali di crisi che andrebbero allontanati già dalla prossima giornata. Grazie. Grazie.